La situazione più critica è quella che ci viene segnalata dalla via Vincenzo Monti, traversa di via Dante Alighieri. I problemi sono tanti, profonde voraggini sul manto stradale, perdite idriche, mancata pulizia e scerbatura nella zona. Il pericolo maggiore, quello cui è legata la preoccupazione dei residenti, riguarda la mancata pulizia dei tombini, che in queste condizioni rappresentano un serio pericolo in presenza di piogge abbondanti. Così come un serio pericolo è rappresentato dalle buche e dagli avvallamenti presenti sul manto stradale, ridotto veramente in pessime condizioni, alcuni tratti sono transennati, altri no. E anche in questo caso tutto si complica e si aggrava nelle giornate di pioggia. I residenti di via Vincenzo Monti chiedono interventi urgenti di scerbatura, pulizia dei tombini e sistemazione della strada. Dalla via Monti ci spostiamo in via Giacomo Leopardi. Anche qui la segnalazione riguarda le condizioni in cui versa il manto stradale una buca assai pericolosa crea anche in via Leopardi non poca preoccupazione tra i residenti che invocano un intervento di sistemazione. Infine in località Raganella continua il triste e diffuso fenomeno dell'abbandono selvaggio dei rifiuti da parte di cittadini incivili che senza pudore e senza vergogna riducono in questo stato una strada che tra le altre cose conduce presso l'hotel Villa Palocla.